La richiesta fatta alla Regione è stata ben precisa, creare corsie privilegiate per l'housing sociale, abbattendo i biblici tempi di approvazione per questi interventi. A rivolgersi all'amministrazione regionale è stata direttamente l'ACER, l'Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia, nella figura del suo presidente Eugenio Batelli. Durante il convegno intitolato Housing a Roma, organizzato presso l'auditorium dell'Arapacis, alla presenza di alcuni illustri rappresentanti di Regione, Provincia e Comune, al margine anche della mostra fotografica alle città di Roma, housing e paesaggi urbani dal dopoguerra oggi. Ma quella dell'housing sociale può essere davvero considerata una delle possibili soluzioni al problema abitativo della capitale? E quali sono le difficoltà con cui tutt'oggi ci si scontra? Ne abbiamo discusso con l'assessore all'urbanistica di Roma Capitale, Marco Corsini, con il presidente della Commissione Urbanistica di Roma Capitale, Marco Di Cosimo, e con il vicepresidente della Regione Lazio, Luciano Ciocchetti. Si dice che Roma è la città con più abitanti senza casa e con più case senza abitanti. C'è sicuramente una situazione di patologia, a cui noi abbiamo l'intenzione di rimediare, con un'azione politica forte, che però deve rimontare una carente previsione di aree destinate all'housing nel piano regolatore. Quindi la nostra azione, purtroppo faticosa e purtroppo difficile, è quella di dover reperire aree da destinare all'housing. E non solo all'housing, ma anche all'edilizia residenziale pubblica, che è quella per le fasce più deboli. Appunto, possiamo spiegare meglio come il Comune può reperire queste aree? Le aree avrebbero dovuto essere inizialmente destinate all'housing. Non avendone trovate, non avendo una riserva sufficiente, noi oggi agiamo su diversi livelli. Cerchiamo di recuperare aree nuove con la manovra sugli ambiti di riserva, densificando i vecchi piani di zona e recuperando le aree eccedenti rispetto agli standard e poi in ogni manovra urbanistica, destinando una parte delle aree a superfici pubbliche che noi possiamo destinare all'housing. Housing è un concetto molto vasto, però vuol dire reperire abitazioni per le fasce della popolazione che sono troppo povere per accedere a un certo tipo di edilizia e sono troppo poco ricche per poterselo permettere. Roma continua a vivere l'emergenza abitativa, uno dei problemi più sentiti in questa città. L'housing sociale potrebbe essere una risposta al problema? Sicuramente un nuovo modello che abbiamo improntato dall'Assemblea Capitolina e dal Comune di Roma potrebbe dare una risposta. Il problema vero è che noi scontiamo un ritardo strutturale di programmazione di 15 anni. Voglio ricordare che nel piano crotore non c'è un'area per costruire edilizia popolare. Voglio ricordare che ovviamente probabilmente negli ultimi 15 anni si sono usati strumenti sbagliati per dare una risposta. Oggi la realtà è che noi abbiamo una grande difficoltà sui ceti più bassi, quindi anche sull'edilizia popolare, su quelle che sono le ex case IACP oppure del Comune di Roma, dell'edilizia sociale vera. L'emergenza più grande secondo me però sta nel ceto medio, quello che una volta era chiamato ceto medio, cioè quelle persone che oggi hanno un reddito solamente, che hanno i 1.000-1.500 euro al mese di reddito, che non potranno mai accedere all'edilizia popolare e che non hanno un'altra risposta dal mercato. Io credo che noi dobbiamo aggredire in maniera più pesante, in maniera più forte quella fascia, perché questo probabilmente risolverà e potrà liberare anche quelle risorse dall'ERP che è molto costoso e che ovviamente non può dare risposta a quel ceto sociale. Secondo alcuni dati ci sarebbero oltre 40.000 immobili invenduti a Roma. Si potrebbe far accedere questo ceto medio di cui parlava lei a questi alloggi? Guardi, io non credo nella requisizione degli alloggi, sono un fermo sostenitore della proprietà privata, quindi da questo punto di vista non credo che come amministrazione possiamo fare qualcosa. È chiaro che ancora il mercato risente del periodo di droga che ha avuto negli anni passati. Credo che i prezzi dell'immobiliare, purtroppo per chi ha ancora questi immobili, siano destinati a scendere. Io credo anche che l'amministrazione Capilino sta mettendo in campo quelle azioni per far sì che il mercato possa essere calmierato. Vede, la realtà è che in 15 anni tutta questa politica non si è fatta. Si è guardata esclusivamente in un periodo di boom all'edilizia come risorsa per business, per fare affari e non si è tenuto conto che c'era una fascia sociale che ha continuato ad andare verso un problema abitativo enorme. Rimettere a posto queste cose ci vuole tempo, nel senso che l'urbanistica per esempio è una delle materie, delle branche del comune che ci ha bisogno di più tempo per mettere a posto le cose. Noi stiamo mettendo in campo tutto quello che abbiamo, tra qualche giorno avremo delle aree di riserva, comunque delle aree di extra standa nei vecchi piene di zona, stiamo terminando l'approvazione di piene 167, abbiamo acquisito un po' di case che però costano troppo all'amministrazione comunale per darle ai 10 punti, all'ERP. Dobbiamo coordinare tutte queste azioni, velocizzarle per quanto possibile, perché l'unica soluzione però è di intervenire su tutto. L'ERP non può essere la soluzione, questa città ha 80.000 appartamenti di edilizia popolare, non possiamo risolvere comunque sia l'emergenza abitativa a Roma solamente con le case popolari. Mi pare che in questo paese, in questa città, in questa regione, da anni si chiacchierì soltanto e non si faccia poi nulla. Noi abbiamo, io, la giunta regionale ha calato le sue proposte all'interno di una legge, di una proposta di legge che solo grazie all'ostruzionismo pesantissimo dell'opposizione non riesce ad essere approvata, ma credo subito dopo le amministrative dovremmo assolutamente portarla in approvazione, perché all'interno di quella norma c'è il modo per dare una risposta, non definitiva perché nessuno ha la bacchetta magica, ma per trovare i famosi 30.000 alloggi nelle varie categorie diverse della cosiddetta edilizia sociale che siano in grado di dare una risposta a questo bisogno di prima abitazione che hanno le famiglie, le giovani coppie, le persone che non possono soddisfare il bisogno di casa sul mercato privato. Uno dei problemi più sentiti è quello delle aree che è da destinare alle abitazioni popolari. Come si possono trovare queste aree? Per me è un falso problema. Le aree ci sono per fare 4.000 case popolari a Roma e sono già pubbliche. Non bisogna chiedere a nessun privato di mettere a disposizione le aree. Ci sono. C'è un emendamento che presentiamo come giunta all'interno del piano casa che consente di utilizzarle immediatamente. Significa che noi dal momento in cui sarà approvata in 18 mesi possiamo avere 4.000 case popolari. Ci sono anche i soldi perché la Regione ha stanziato 100 milioni di euro l'anno per 10 anni, un miliardo per costruire le case popolari. Per cui se vogliamo continuare a raccontare fandonie per poter consumare terreni liberi in questa città continuiamo a farlo, ma noi offriamo un'alternativa diversa.